A guidare l'equipe sanitaria a Robola, professoressa Lucrezia Furian, accanto a lei la dottoressa Cristina Silvestre, due professioniste a capo di un intervento eseguito nell'azienda ospedaliera di Padova, qui a una donna di 63 anni, è stato espiantato un rene pronto per essere donato e affidato all'equipe del centro tra pianti che lo stava aspettando in un'altra sala operatoria. La paziente sta bene ed è stata dimessa in pochi giorni, una tecnica che ha tutti i vantaggi della laparoscopia, ha minori percentuali di complicanze, eseguita da minore dolore post-operatorio e ha anche migliori risultati estetici, solo 6 cm la ferita, permettendo un recupero veloce per la paziente. L'elaborazione del software robotico infatti ottimizza la visione di vasi sanguigni di piccolissime dimensioni, permettendo di evitare anche il minimo sanguinamento, una tecnica affinata dalla professoressa Furiani in Belgio, eseguita per la prima volta in Veneto.